Ecco la foto subito dopo l'incidente. Siamo a Vicenza, a Borgo Casale. Un 34enne di Valdagno perde il controllo del furgone che sta guidando e finisce sopra un dissuasore in cemento, restando incastrato. Gli agenti di polizia locale arrivano e trovano l'autista con evidenti sintomi di una forte ebrezza alcolica. Lo accompagnano al comando per sottoporlo all'alcol test. L'uomo però si rifiuta categoricamente di effettuare l'accertamento. Va su tutte le furie, spintona due agenti e poi tenta di andarsene. Immobilizzato e portato in una cella di sicurezza viene denunciato per violenza e resistenza pubblico ufficiale e per guida in stato di ebrezza, aggravata dal fatto di aver causato un incidente e dalla qualifica di conducente professionale impegnato in alcune consegne per conto del datore di lavoro. La patente gli è stata ritirata.